C'è una cosa che penso abbiamo capito tutti e che non bisogna mai far arrabbiare le mamme. In questo caso in rappresentanza del nuovo comitato che è stato formato proprio in questi giorni ne abbiamo due, Astrid Di Pasquale e Katia Di Pasquale, in rappresentanza di mamme che hanno i figli che vanno nelle scuole del Trapanese e pongono tutta una serie di problematiche. Quali? Intanto siamo mamme, dentro il comitato ci sono sia mamme che papà, mi preme sottolinearlo. Ed è molto importante perché il comitato si forma sulla spinta di una problematica di cui avrete sicuramente parlare, che è stata quella della mensa, ma sicuramente non intende occuparsi solo di quello. Abbiamo alzato la testa perché il problema dell'alimentazione dei nostri figli sicuramente ci ha colpito nel vivo e l'abbiamo fatto solo dopo una serie di eventi. Adesso parrebbe che la questione è rientrata, mancano 20 giorni alla scuola, quindi sicuramente è il caso di impiegare le energie nelle cose importanti. Quello che desideriamo è mettere in piedi un osservatorio permanente sulle scuole che collabori e apra la strada ad una comunicazione con l'amministrazione. Non siamo contro nessuno, non intendiamo contrapporci a nessuno. Vogliamo collaborare anche dando un apporto fattivo all'amministrazione laddove ce lo chieda. Siamo disponibili. Noi siamo felici che stamattina al Don Milani è stato ripulito il giardino. Di questo devo dare atto all'amministrazione. Però ciò che a noi preme, e abbiamo creato appunto l'osservatorio che è un comitato spontaneo di genitori, e chiediamo a tutti la partecipazione, preme sapere che ci sarà la continuità dei servizi, che non deve essere un atto straordinario, ma che gli atti straordinari dal comune devono essere continui, così che da dare la possibilità alle scuole di avere l'amministrazione ordinaria, di essere partecipe nel fare rispettare il diritto dei bambini anche al gioco fuori, nei giardini. Cosa siete disposti a fare? Siamo disposti a... Intanto cercheremo una comunicazione, come dicevo, con l'amministrazione. Noi stiamo preparando un documento che presenteremo, e che sarà un documento programmatico su quelli che sono i lavori che noi intendiamo mettere in atto. Chiediamo a tutti i genitori in ascolto di partecipare al gruppo Facebook, ci sembrava lo strumento più veloce, che si chiama Comitato Spontaneo dei Genitori dei Trapani, in modo da partecipare tutti. Perché? Perché non vogliamo che sia solo la voce di poche persone. Vogliamo che tutti i genitori possano partecipare ad una reale modificazione delle condizioni per i nostri piccoli, che saranno i cittadini domani in fondo.